La giornata di La giornata di oggi qui in Cimex è molto importante per noi di Comazzo Rete Italia e Nolokei proprio perché sigla una partnership importante. Diciamo che i prodotti Cimex con la loro affidabilità, la loro innovazione sono comunque il complemento naturale per le nostre macchine. Comazzo Rete Italia e Nolokei è una rete che riunisce praticamente tutti i dealer, i distributori delle officine Comazzo in Italia. La rete è diffusa su tutto il territorio, da nord a sud. Il training di oggi è molto importante perché ci permette di essere sempre aggiornati e di fornire per l'appunto le risposte giuste a tutte le domande dei nostri clienti. Grazie. 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 Grazie.